Sei un egocentrico bastardo! Non so come diavolo ho fatto sprecare tanto tempo con te! L'età è quella che sembra, anche il resto è come sembra. È delizioso, vero? Tu non hai un figlio. Io speravo che tu avessi dei valori spirituali. Oh, no, 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 no. Tu gli piace tanto, me l'ha detto. È molto trendy il tuo vecchio. About a Boy, un ragazzo. Questa sera alle 21 su 27.